ci racconta il progetto taylur taylur è la prima figital creator platform in sostanza è una piattaforma che permette al mondo della moda di digitalizzarsi innanzitutto di poter permettere a tutta una serie di soggetti che al momento non sono connessi con la digitalizzazione di connettersi e di poter personalizzare i prodotti quindi dall'abito personalizzato il pantalone personalizzato ma la scarpa alla valigia gli accessori ai gioielli alla possibilità la possibilità a tutta una serie di realtà che fino ad oggi potevano solo vendere attraverso il canale tradizionale anche di aprirsi a un mondo diciamo digitale ma non solo permette anche al mondo digitale di entrare nel mondo reale e quindi credo che abbia dei contenuti di innovazione importanti qual è il ruolo dell'innovazione del comparto della moda ma io credo che l'innovazione sia importantissima per il futuro della moda e in particolare l'innovazione digitale perché io penso che con la cultura del digitale si possa anche implementare la sostenibilità perché solo attraverso una cultura del dato con innovazione tecnologica la nostra filiera potrà evolversi e diventare anche più sostenibile non solo più contemporanea e moderna ma anche più sostenibile grazie